Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Runeterra. Oggi vi vado a parlare di un mazzo da TRS, un mazzo aggressivo che è ritornato in auge ultimamente, aveva già trovato un po' di spazio prima dell'espansione. Sto parlando del Pirate Agro, Fields di Hearthstone nell'aria. Non c'è Paches qua, ci sono Miss Fortune e Gangplank, un mazzo che ho provato in live, ha avuto ottimi risultati e quindi vi porto anche qui, vi spiego un po' il mazzo che credo possa aiutarvi tantissimo a scalare in questi giorni nella ladder. Andiamo a vedere la lista. Ecco qua la lista, ovviamente Bilgeewater insieme a Noxus, quando si parla di agro spesso Noxus ci mette lo zampino. 19 carte sono anche parecchio rispetto allo splash che vedevamo ultimamente di qualche carta. Qua invece è quasi metà e metà, abbiamo 9 drop a 1, 6 drop a 2. Attenzione alla demolitrice, raramente la teniamo al mulligan, perché in realtà dei 9 drop a 1 che abbiamo, 6 hanno 1 di vita, quindi la demolitrice imperiale non potrebbe entrare a turno 2. Quindi quello che consiglio io è tenere tutti i drop a 1, anche se ne avete 3, tenete 3 drop a 1. Ecco, magari contro un altro Bilgeewater evitate doppio seguace con 1 di vita, perché potreste subire a turno 2 una pessima pioggia di piombo che mette la partita già nei binari sbagliati. Però ecco, già se avete sabotatrice e doppio macellaio, pur stando contro il Bilgeewater potete comunque tenere anche fino a 3 drop a 1. Abbiamo Miss Fortune a 3 che se avete almeno un drop a 1 la si tiene, altrimenti si va a cercare altro. Granatiere sempre da tenere al mulligan. Il sottoufficiale no, non è necessario, a meno che non abbiate proprio già la curva in mano, 1, 2, 3. Allora tenete anche il sottoufficiale per fare la curva. Tutto il resto serve per andare a chiudere. Quindi abbiamo Zap che ci va a pescare delle spell molto utili per fare danni finali. Ovviamente decimare GP che quando si evolve può fare l'attacco decisivo. Jack, the winner, il vincitore in italiano, che ha un ottimo body che quindi può sia essere utile in attacco ma anche per bloccare qualche tentativo di contro-aggressione da parte del nostro avversario. E poi ogni turno ci dà questo dormi con i pesci che può aiutare a fare danni diretti e anche a devolvere GP soprattutto facendo danni non nel nostro turno d'attacco. Infine, Mono, Farron, può essere una win condition alternativa se tutto prima è fallito. Non giocate ne più di uno perché altrimenti rischiate di rimanere un po' morti in mano avendo due troppo a otto. Mazzo molto bello da giocare a mio parere, molto rapido, si scala molto velocemente e soprattutto in questo meta a mio parere da TRS. Andiamo a giocarlo. Abbiamo un mirror, abbiamo un mirror, teniamo Sabotatrice e Miss Fortune, il resto via attacchiamo anche a turno dispari che per noi è ottimo perché possiamo partire subito con la Sabotatrice e soprattutto attaccare anche a turno 3 con Miss Fortune. Iniziamo di Sabotatrice perché il macellaio ovviamente ha bisogno di un'attivazione. E' andato in sciopero il deck tracker, va bene. Si fa entrare tre danni per farne due poi al suo turno. Probabilmente vuole attivare magari un macellaio. Ora è molto rischioso andare a giocare qualcosa quindi io mi accontenterai di giocare macellaio anche se non è attivato, però ci permette di giocare intorno a pioggia di piombo. Ok, infatti l'avversario gioca a pioggia di piombo. Noi a questo punto possiamo fare animaletto. Ovviamente non si gioca intorno a doppia pioggia di piombo. Una sì, due. E' stato più forte di noi. Mettiamo ovviamente Miss Fortune. Ecco, lui sarebbe stato ancora meglio probabilmente il turno prima. E vediamo se c'è un sotto ufficiale che è il peggior drop che può capitare. Miss Fortune va benissimo perché se ci blocca la nostra Miss Fortune facciamo un 1x1 Miss Fortune. Sotto ufficiale sarebbe stato peggiore perché andrebbe a bloccare Miss Fortune senza morire dal danno. Attenzione, non para con nulla. Accetta di prendersi tantissimi danni. 8 danni per lui. Ok. Va bene. Noi mettiamo sotto ufficiale. Siamo fuori curva, però in realtà è molto importante qui avere un drop che non è possibile. Non abbiamo uno di vita magari. Peccato. Ma sicuramente l'importante è il sotto ufficiale per bloccare un eventuale attacco di Miss Fortune. Lui lo possiamo anche sacrificare. Allora, sicuramente andiamo a bloccare così. Non blocchiamo lui che tanto dopo morirebbe subendo l'attacco. Qua ci possiamo pensare. Se vogliamo il pezzo magari si può pensare a parare. Sì, va bene. Vediamo che ci ha un drop a 1. Peccato. Il drop a 1 sarebbe stato perfetto da rigiocare subito. Se noi non attacchiamo subito lui potrebbe giocare Jack the Winner. Diventa una brutta gatta da pelare. Va bene, facciamo così perché qualsiasi colpo facciamo uccide pezzo e salva nostro pezzo. Peccato. Io avrei ucciso volentieri lui. Provo bene anche così. E risposta può farci Fervor. Infatti è così. In faccia. Ok. Ok, 5 punti vita di Masti per lui. Giuquiamo il Granatiere. Ci serve questo danno in più? Perché con Decimare andiamo a farne 5 esatti. Anche se ovviamente Zap non sarebbe stato male. Attenzione. Attenzione. Sicuramente si parte così. E l'avversario si arrende. Non può più vincere perché ovviamente qualsiasi attacco il nostro primo bloccante sarà al 3-2. E GG. Vinciamo il Mirror. Siamo i pirati migliori. Nightfall. Siamo contro Diana Nocturne. Ok, il macellaio è un ottimo troppo a 1. Pioggia di Piombo non è una bruttissima carta. Ha alcuni pezzi con 1 di vita. Potremmo anche tenerlo. Anche se probabilmente se lui mette un 2-1 ci andrà a bloccare il macellare attorno a 1. Preferisco la curva. Ok. Questo è anche meglio come pezzo in cui iniziare. Non ha drop che hanno 1 di attacco quindi in realtà non cambia nulla a livello di resistenza. giocare uno di tasto dell'altro. Miss Fortune 2-1-3 è ottima. Sono tentato di passare. No, il gioco. Rimettiamo Miss Fortune. Questo è pessimo. Questo è pessimo. Perché purtroppo ci può attraddare la povera Miss Fortune. Attacchiamo solo con loro. Ci accontentiamo. E' ancora lontano da evolvere Diana quindi non temo troppo il grab qui. Portiamo qualche altro danno. Ok, elusivo. Elusivo non è il massimo anche se diciamo che spero si debba preoccupare più lui di me che io di lui. Quando attacca Zapp in ogni caso. Questo è pesante. E non abbiamo modo per eliminarlo purtroppo. Oddio, potremmo avercelo. Lui attaccherà sicuramente adesso. Va bene, eliminare il Mentor è... Beh, comunque sia un bloccante. Gli lasciamo passare questi 6 danni. Pericolosa lei. Però adesso noi mettiamo GP. GP danni ne porta. Abbiamo anche Pioggia di Piombo che fa danni aumentati a questo punto. Potrebbe forse giocare una Gemma. Per andare a fare il trade. In realtà a noi che ci uccida GP interessa il giusto. Ok. Usa la Gemma. Ci sta. Mette anche lui. Che noi va bene. Attacchiamo ovviamente con tutto. Lui potrebbe arrivare a morire anche... anche lei. Con la GP di Piombo. Dipende tutto da dove vanno a finire i nostri colpi. Però è giusto che aspettare per far prima bloccare lui e poi mettere una condizione di difficoltà. Anche perché se para Diana, dove para para attualmente muore. Se vuole bloccare deve in qualche modo eliminare il barile prima. Quindi è una cosa che probabilmente andrà a fare adesso. Avrà orrore? Se blocca con Diana è perché ha orrore. No. Accetta la morte di Diana? Questa cosa mi perplime. Non facciamo niente noi ovviamente. Ha fatto mali conti. Secondo me ha fatto mali conti. Non gli do la possibilità di giocare qualcosa. Poteva essere l'Ital ovviamente con Piaggia di Piombo se avessimo colpito il bloccante di GP. E la faccio ovviamente. Però secondo me lui ha sbagliato qualcosa qua. Non gli volevo dare l'opportunità di rigiocare. Abbiamo l'Ital facile. Prossimo turno, non decimare. Non vedo perché doversi andare a impelagare in situazioni pericolose. Non mi va bene. Ok, un invoke. Invoc da 3 non dovrebbe avere modo di curare. Quindi stiamo abbastanza tranquilli. Si va di decimare. E' gg. Gg per noi. Non ho capito questo blocco a parte sua. Poteva almeno eliminare Miss Fortune. Si immagina, si immagina. Siamo a un passo dal master. Giochiamo contro Garen. E Aurillun Sol. Mazzo Draghi direi. Mazzo Draghi. Versione con Garen. Abbiamo il Granatiere per turno 2. Però voglio avere anche il turno 1 da giocare. Dobbiamo aggredire assolutamente. Quindi sacrifico il sotto ufficiale. Abbiamo 9 drop a 1. Quindi abbiamo 4 pescate. Ok. Arrivano in drop a 1. Probabilmente andiamo a mettere la Sabotatrice. Che può generare più danni. Non dovrebbe esserci bloccante dall'altra parte a turno 2. Di solito non c'è. L'unico sarebbe l'Evocatore Draghi. Che non credo vada a bloccare. Contro un mazzo del genio. Bisogna essere molto aggressivi di nirli. Fate da turno 3 in poi. Se pensate che lui possa mettere Drago in campo. Fate sempre open attack. Prima di giocare carte. Perché altrimenti. Probabilmente vi trovate davanti a un Drago. Che è molto più grosso. Di quello che avete già appena giocato voi. Quindi. Se avete intenzione di giocare 2 o 3 pezzi almeno. Potete valutare. Però. Se dovete aspettare di attaccare. Per giocare un pezzo. Non lo fate. Attaccate. Ok. Sacerdodessa. Beh giocata lenta questa. Giocata lenta. Ci dà tempo. Andiamo in sotto ufficiale sicuramente. Mettiamo pezzo. Non mettiamo barile. Non c'è motivo. Anche perché. Sacerdodessa potrebbe attaccarlo e ucciderlo. Ma comunque sia. Ci serve. Un pezzo in più per attaccare. Vediamo cosa ci esce. Un 2-1. Ok. È inutile questa. Questa carta. Però il 2-1 non è malaccio. Botte subito. Non vi fate ingolosire. Lui è già abbastanza basso. Ok. Sono altri 9 così. Sarebbe 5. Ok. A questo punto il sotto ufficiale può essere usato per giocare il barile. Perché il barile ci mette in lethal. Potremmo fare sotto ufficiale. Tornando dopo decimare. Tra l'altro andremo a 5 e 1-6 mana. Potremmo anche poi inserirci qualcos'altro. Un distraforo. L'unico problema è che lui potrebbe attaccare subito il barile. Per farlo fuori. Però in quel caso possiamo fare la pioggia. La pioggia. Mi piace. Mi tengo anche il mana. Non serve mettere un altro pezzo in campo. Può servire invece fare una spell in più. Vediamo cosa peschiamo. Beh, il GP è molto grosso. Non vedo come lui possa risolvere questa situazione. Sta decidendo se grabbare o meno. Va a grabbare. Ok. E noi lo sfruttiamo. Questi sono due danni. E facciamo fuori il ranger. In risposta lui potrebbe fare singular tensione magari. Però secondo me lui non lo fa. Perché vuole tenerselo per eventualmente il nostro fervor. Secondo me. Ha paura di fervor lui. Anche giustamente. Ok. Vedete a questo punto possiamo anche allargarci a fare così. Allora lui al prossimo turno in teoria potrebbe fare judgment. Lui gioca judgment. Però al prossimo turno lui avrà 6 e 3 e 9 mana. Se lui fa 8 mana judgment non può curarsi. E quindi ne abbiamo vinto. Quindi noi attaccheremo consapevoli di poter subire judgment. E poi chiudiamo on decimare. Potrebbe anche fare risposta singular tensione però a lui. No, perché? Me li prendo questi danni. Con singular tensione poteva levarci due pezzi. Facendo singular tensione ad esempio qui. Ok. Va a curarsi. Rimane valida l'assunzione fatta prima. Botte con tutti. Se fa judgment. E GG. Che va a 4. Abbiamo 5 danni potenziali. A 1 non può curarsi con nulla. A meno che non abbia la spella 0 che sconta una carta. Però non l'ha presa con nulla. Non può avere la spella 0 perché ha soltanto celestiai da 4. O più. Ok, no, sicura. Questi qui ci sono 8 danni. Andrebbe a 2. Potrebbe avere singular tensione in mano. Sì. Noi abbiamo 9 mana. 5, 2, 7. Sta bene questo. Teniamo in vita un pezzo. Why not? Ok. Sta a 4. Potrebbe avere la cura. Però insomma anche se avesse la cura. Noi poi abbiamo altri 2 danni. O per lui la cura ce la può avere in massimo 2. Direi che GG anche questa. Questo mazzo è un treno ragazzi. Un treno. Eccola. C'è là. Fino alla fine. Onesto. Rispetto assoluto per il nostro avversario. Che ci prova in tutti i modi possibili. Ma il nostro mazzo è troppo forte. Non ce n'è per nessuno. E GG. Beh ragazzi a questo punto ci manca una partita per fare master. Io direi che la facciamo alle 5 live. Vi lascio con la suspense. Se faremo master o meno con questo mazzo. E niente ragazzi. Questo è oro colato. Prendetelo e rankate. Perché è veramente un mazzo eccellente in questo meta. Non teme quasi niente. Se riuscite un attimo a entrare nella meccanica di gioco. E capire quando bisogna attaccare. Quando poi cominciare a utilizzare le spell. Quando bisogna switchare da danni con la board. A danni con le spell. Andate dritti. È veramente fortissimo questo mazzo. Consigliatissimo. Io vi lascio qua sotto in descrizione come al solito. Il link di tutti i miei canali social. Di della lista ovviamente. Il link della lista tra l'altro. Visto che molti hanno problemi a copiare il codice della lista. Per chi avesse problemi vi lascio anche il link del mio profilo su MobileITX. Dove carico e tengo tutte quante le liste che gioco. In modo tale che potete direttamente andare lì. E trovare quella in particolare che vi serve. E magari anche qualcos'altro. Ci vediamo alle 5 per fare master. Buon gioco a tutti. E per chi non ci fosse in live. Ci vediamo al prossimo video. Buon gioco a tutti.